Parla tifoso dell'Azzurra! Sono di nuovo qui per portare un'altra notizia esclusiva che scuoterà il mondo del calcio. Come sempre, ci impegniamo a migliorare noi stessi sempre di più per garantire i migliori risultati sul campo. Prima di iniziare, ti chiedo di lasciare il tuo tipo e iscriviti al canale per perdere qualsiasi notizia. Oggi porto informazioni entusiasmanti sui negoziati per rafforzare il nostro attacco. Sembra che le conversazioni portino Jonathan David a Napoli siano avanzate. Secondo l'edizione odierna di Gazzetta dello Sport, il giovane talento di Lille è scelto per essere il successore di Victor Osiman nella nostra squadra. David è estremamente interessato al progetto Napoli ed è pronto ad accettare la proposta italiana, anche se non siamo in grado di qualificarci per la prossima Champions League. L'attaccante canadese ha un contratto con Lille fino al 2025 e non intende rinnovare, valutato a circa 50 milioni di euro. La proposta del nostro presidente, Aurelio De Laurentiis, include un pagamento iniziale di 35 milioni di euro, nonché bonus aggiuntivi. Le parti hanno anche discusso dei dettagli sull'accordo economico, con un possibile stipendio di circa 3 milioni di euro per stagione, triplicando il valore di quello attuale. Secondo i rapporti, il direttore sportivo di Napoli, Manna, ha già incontrato gli intermediari del giocatore e le condizioni per l'acquisto di David sono praticamente definite. La Juventus ha persino autorizzato la collaborazione con il Napoli in anticipo, dimostrando che le basi per questa operazione sono solide. È incoraggiante vedere che David è determinato a unirsi al nostro club, indipendentemente dalle sfide che affronteremo in questa stagione. Il tuo desiderio di indossare la camicia blu è la prova del prestigio e della grandezza del Napoli nello scenario europeo. E tu, fan, cosa ne pensi dell'assunzione possibile di Jonathan David? Era il rinforzo che dovevamo rafforzare ulteriormente il nostro attacco? Lascia le tue opinioni nei commenti qui sotto. Non dimenticare di lasciare il tuo tipo e iscriverti al canale per non perdere alcuna notizia. Insieme, speriamo per il successo del nostro Napoli. Forza Napoli sempre!